la mia amica siamo molto romantiche vero barba siamo venuti antica sartoria positano e abbiamo visto tutte abiti meravigliosi bellissimi che adesso vi faccio vedere la ragazza non vuole riprendersi però ha detto che ci dicevano si abili da positano mamma mia da positano ma sto bellissime o qui dentro mi piacerebbe pure fa commessa oddio favolosi io li adoro batte mamma mia guardate che abiti tutti uno più romantico degli altri è mamma ma pure con le collane barbara guarda questo tutto giallo dio rosa doro il rosa giallo tutti i colori ma mia tutto colorato vabbè è il negozio nostro questo vanno anche però con le perline pure per gli uomini il viola no no guardate che oddio barbara guarda che vestito fa vedere oddio no io uno mi vengo a comprare quando arrivate a cantare a fare serate questi sono adatti ma mia c'è questi sono quelli che si vendono appositano giusto senti la curiosità solo no allo ad esempio un vestito quanto può costare da quanto non non ci credo quale questo ad esempio una parte in saldo questi 8 euro 20 no alcuno si qualcuno no 20 25 lunghi pure otto è ma davvero veramente cioè io pensavo c'è uno pensi chissà quanto costano invece no non è così barbara mi sa che uno di questi anche vanno al mare ma uno ci può andare in giro o so solo vanno al mare no qualcuno non è trasparente quindi tranquillamente in città uno lungo ad esempio di questi 8 10 euro lungo è un pochino diverso comunque viene o 14 o 18 va bene questi sono celesti ah però sono tipo camicioni così sono caftani ma mia ma ti piace lavorare al negozio così per i colori te le metti tu questi vestiti sono molto femminili secondo te ciao sono franca anche io seguo romantica 59